Siamo al quarto confronto per quanto riguarda questa tornata elettorale delle amministrative 2016. Siamo tornati a Roma con altri quattro candidati che ora vi presento subito. Vi ricordo molto brevemente quali sono le regole, le conoscete ma è giusto comunque ricordare che farò stesse domande per tutti i candidati tra lo stesso tempo di risposta. Un minuto e trenta secondi. I candidati avranno a disposizione due diritti di replica da trenta secondi e poi un appello finale da un minuto. Come dicevamo torniamo a Roma. Io ringrazio per essere qui Michel Emi Maritato a sottutela lista civica. Grazie anche ad Alessandro Mustillo del Partito Comunista, a Maria Di Nolfi il Popolo della Famiglia, a Simone Di Stefano Casapound. Vi ringrazio anche perché peraltro questo confronto era previsto per giovedì scorso, poi con la morte di Pannella abbiamo cambiato subito il nostro palinsesto. Riparto da Maritato, vi do subito trenta secondi per chiedere lo spirito della vostra candidatura, quindi per presentarvi sostanzialmente agli elettori. Quindi le do trenta secondi per chiedirci subito che cos'è Assotutela. Assotutela è un'associazione assotutela dei cittadini che nasce nel 99 per una necessità personale di una patologia maligna e abbiamo preso in carico tutta la malasanità, quindi abbiamo incominciato ad occuparci della malasanità che purtroppo nel Lazio è dilagante e successivamente ci siamo impegnati nel mondo sociale e sul ricalco dell'usura bancaria, dei prodotti esattoriali, delle cartelle guida, gli Aserit, Aeco e quant'altro e da qui nasce la voglia di aiutare i cittadini in maniera trasparente, in maniera semplice e in maniera del tutto vicina alla gente, senza fare politica. Grazie, Maria Di Nolfi, il popolo della famiglia, lo abbiamo conosciuto meglio, però anche qual è il vostro impegno per Roma? Il popolo della famiglia è candidato in tutta Italia, intanto l'impegno è nazionale, a Roma mettiamo quel plus anche di candidature, perché io faccio il candidato sindaco, Gianfranco Amato, che è stato un altro protagonista del Family Day, i famosi incontri di piazza a San Giovanni, a Circo Massimo, che hanno voluto segnalare un problema alle politiche antifamiliste del governo e delle amministrazioni locali, che non riescono a comprendere che l'unica chiave, ruota che fa sviluppare la società e su cui bisogna investire è la famiglia. Invece di fare sviluppo per la famiglia si fanno leggi che colpiscono la famiglia stessa. 30 secondi a Casa Pound per la presentazione della vostra candidatura, Di Stefano. Casa Pound ormai la conoscete tutti perché è diventato il paradigma del male, anche e soprattutto per il governo, avete sentito Maria Elena Boschi citare Casa Pound ogni tre minuti, ovviamente ha ragione perché noi siamo l'opposizione vera oggi al governo, siamo quel movimento identitario e nazionalista che si vede in tutta Europa e che purtroppo soltanto qui in Italia ancora non raggiunge i successi meritati, anche se noi a Bolzano abbiamo preso un 7% pieno, per cui ci candidiamo anche qui a Roma per ottenere esattamente lo stesso risultato, entrate con forza al Consiglio Comunale. La presentazione è anche del Partito Comunista a Roma, Alessandro Mustillo. Il Partito Comunista è l'unica forza politica che si è opposta alla deriva della sinistra di questi anni. Una deriva che ha portato il Partito Democratico di Renzi a fare le peggiori politiche di attacco ai diritti dei lavoratori e delle nuove generazioni, a cancellare l'articolo 18, cosa che neanche il governo di Berlusconi era riuscito a fare. Siamo una forza di sinistra coerente che non scende a compromessi e a patti con gli amici dei palazzinari e delle banche che hanno distrutto Roma e distrutto questo Paese. Grazie. Tra pochissimo vi faccio parlare della vostra ricetta sul traffico. Prima però altri 30 secondi e riparto da Di Nolfi per parlare di manifestazioni a Roma. Ogni giorno ce n'è una. Sabato scorso c'era Casa Pound con gli antagonisti, le conosciamo anche le manifestazioni ovviamente del popolo e della famiglia. Ieri c'erano i dipendenti pubblici. Da sindaco a Di Nolfi ridurrà le manifestazioni o le permetterà tutte? E le permetterà a tutti gli orari, in centro o in periferia? Bisognerebbe dislocare le manifestazioni in altri luoghi della città, anche per polarizzare diversamente una città che vive troppo di centro storico e troppo poco di periferia. La manifestazione è anche un luogo di aggregazione, un momento di mobilitazione importante che può attraversare le periferie e essere occasione di incontro anche per i bisogni delle periferie stesse. Quindi dislocando meglio e con orari fissi si può ovviamente dare il diritto di manifestazione a tutti. A tutti, anche Gay Pride? Io quello non lo finanzio, diciamo. La stessa domanda a Di Stefano. Manifestare tutti a Roma in qualsiasi orario, sempre al centro o in periferia? Manifestare tutti ovviamente, lasciando anche una caparra alle buone intenzioni, perché se poi manifestano i centri sociali e sfasciano Roma e distruggono la città, qualcuno deve pagare poi per quello che succede. Comunque sì, magari spostare anche più in periferia, noi abbiamo fatto manifestazioni anche in periferia senza nessun problema, però dare più attenzione a chi manifesta, perché chi manifesta scende per esprimere delle idee che vengono completamente ignorate poi dai media. Quindi diamo spazio alle persone sui media, ma lasciamo manifestare liberamente a Roma. Chiaro, Mustillo, anche lei la pensa così? Si può manifestare? Possono manifestare tutti e anche in centro? La manifestazione è un diritto democratico riconosciuto dalla nostra Costituzione. Più che limitare le manifestazioni come viene fatto con provvedimenti da sceriffi, prefetti e sindaci, bisogna invece rimuovere le cause che oggi portano migliaia di persone a dover scendere in piazza per far sentire la propria voce. Rivendico da questo punto di vista la grande esperienza che ebbero i comunisti a Roma con Petroselli e Argan, quando appunto si parlava con i lavoratori, si evitavano gli scioperi, si faceva in modo di sentire le loro richieste e non arrivare a situazioni di paralisi della città. Per la lista civica a sottutela si può manifestare ovunque anche tra virgolette ai danni dei cittadini romani? Essendo una lista civica noi assolutamente, avendo da un'associazione, non vietiamo il diritto di manifestare a nessuno. Chiaramente il nostro compito è quello di avere un sindaco che sia nel sociale, quindi di rapportarsi direttamente con i cittadini e capire il perché ci deve essere questa manifestazione e magari aiutarli a trovare la soluzione. Tutto qua. Grazie, allora sul traffico invece riparto da Di Stefano, abbiamo sentito le idee anche più disparate in questa campagna elettorale, abbiamo sentito le teleferiche, abbiamo risentito parlare di pedaggi. In un minuto Di Stefano ci dice da sindaco qual è la prima cosa che farebbe per migliorare la situazione del traffico a Roma e anche con quali soldi. Le do un minuto, se non mi sbaglio lei si muove anche, almeno così ho letto con il trasporto pubblico locale, ha detto che è migliorato comunque. Sì, è vero, è migliorato e uno è fortunato soltanto se abita poi sui punti del trasporto su ferro, per esempio da Magliana a stazione Termini, però basta prendere un autobus che sei completamente abbandonato a te stesso e non si sa bene che fine farà la tua giornata. Per questo ripartire da ATAC, entrare in ATAC, militarizzarla possibilmente se si può usare questo termine, tramutarla in una caserma dove esiste dei ruoli precisi, delle gerarchie, delle responsabilità e le colpe si pagano. Mentre oggi invece non si sa bene che cosa succede, abbiamo dirigenti ATAC che prendono 15 mila euro al mese, che andrebbero cacciati a pedate, visto che offrono un disservizio e hanno l'azienda sull'orro del fallimento. Entrare in ATAC, prendere quella massa di persone che sono state messe lì dalle precedenti amministrazioni, come raccomandati a spostare un foglio da una scrivania all'altra, dargli una divisa e mandarli sugli autobus a far rientrare ATAC dell'inevaso e parliamo di milioni di euro che potremmo mettere a disposizione del servizio pubblico e far sì che controllino anche il decoro sugli autobus, chi sale ubriaco, i barboni, tutto quello che voi conoscete benissimo. Non spendere nulla ma riorganizzare ATAC. Qual è invece la ricetta del Partito Comunista, una ricetta per migliorare la situazione dei trasporti a Roma e con quali soldi? Bisogna passare da un sistema che privilegia il trasporto privato a un sistema di trasporto pubblico con investimenti seri che partano da una spina dorsale del trasporto cittadino che deve essere su ferro, quindi metropolitane, metropolitane leggere, corridoi tranviari. Lei dice, se non mi sbaglio, portare a termine i lavori della metro C, iniziare i cantieri per la metro B, tutto in tempi veloci. Quali tempi e con quali cifre però? Assolutamente, bisogna farlo ma non bisogna lasciare che ancora una volta siano i costruttori a fare il bello e il cattivo tempo perché non è possibile che su ogni chilometro in metropolitana a Roma ci siano 300 varianti, ci siano appalti che lievitano i costi dall'assegnazione alla realizzazione. Allora, per esempio, pochi giorni fa, Tronca ha abbonato 44 milioni di euro al Consorzio dei Costruttori della metro C. Noi pensiamo che questa sia la strada sbagliata, esigere che i lavori siano fatti e nei tempi giusti. Con i soldi ci arriveremo magari parlando più in là del patto di stabilità e del debito pubblico. Per noi sono punti prioritari su cui liberare risorse per i trasporti e per le politiche sociali in generale. Allora, l'Atac è un servizio a dir poco penoso, dice maritato, però ha visto al primo punto del suo piano traffico il miglioramento dell'informazione. Di che tipo di informazione parlate? Parliamo di un'informazione innanzitutto per la viabilità che non c'è, assolutamente. Non c'è un servizio efficiente dell'Atac che informa come arrivare da una parte all'alta della città. La cosa più importante è che la periferia non è ben collegata nel centro, quindi noi cominceremo immediatamente dalla periferia a fare una rete fitta di trasporti, un rinnovamento di mezzi che ormai sono vetusti e un rinnovamento di dirigenza dell'Atac che purtroppo conta un 60% di amministrativi, di posti clienterari e il 40% di tecnici. I soldi troviamo molto facilmente perché è una fantascienza che non ci sono i soldi del Comune di Roma. Il Comune di Roma ha i soldi del debito pubblico, 385 milioni di euro che si possono riprendere agendo in maniera urgente, un provvedimento d'urgenza, contro le banche che hanno fatto sottoscrivere al Comune di Roma, dei prodotti tossici derivati e usurari con interessi di modi usurari. Quindi recuperare da lì i soldi per rinvestirli nel trasporto pubblico. Adinolfi pensa alla chiusura, al traffico privato di tutto il centro storico che deve diventare il più bel museo a cielo aperto del mondo. Su questo si è fatto anche un'idea sui tempi e sui costi? Io penso, intanto che l'ho praticato personalmente, io ho preso la macchina privata, anzi le due macchine private di famiglia e le ho rottamate. Vivo senza l'automobile ed è una soluzione che io consiglio ai romani ed è comunque la soluzione per Roma. Il trasporto privato deve essere drasticamente ridotto. Il tema delle risorse sul traffico è il tema, non è con quali risorse si fa, ma se non si vanno a riprendere le risorse non si può fare nulla. È di ieri la notizia di Adac dove si facevano appalti sui pneumatici degli autos 5.000 euro l'uno. È ovvio che se un pneumatico costa come i pneumatici della Ferrari, è chiaro che siamo dentro a una roba surreale. Se si fa un appalto di 16 milioni e non si trova neanche la persona che ha firmato quelle fatture e le ha pagate, vuol dire che qui c'è un problema semplicemente, gli americani chiamerebbero di accountability, se non hai la responsabilizzazione dei gruppi dirigenti e lo spreco è colossale, il buco di Adac è colossale, trovando le risorse, mettendolo a fista a bigliettaio, molto semplicemente, riducendo l'evasione sugli autobus e fermando la ruberia riparteata. Chiaro, si parla spesso del salario accessorio, devo ripartire da Mustillo, dei dipendenti comunali è una polemica in atto da tempo, salario accessorio bloccato peraltro dalla Ministero dell'Economia e Finanza, per questo proprio ieri hanno protestato i dipendenti comunali. Peraltro proprio in questi minuti si sta trattando a Roma tra comune e sindacati per lo sblocco di parte di questo salario accessorio che deve essere abbinato a determinati tipi di prestazione. Una delle ipotesi in campo è questa, più i vigili fanno multe, più portano soldi al comune e più guadagnano. È d'accordo? A 30 secondi? Assolutamente no. La questione del salario accessorio riguarda delle carenze da parte dell'amministrazione in questi anni che non ha rinnovato i contratti e quindi dal momento che non sono stati rinnovati i contratti la quota di salario che doveva essere riconosciuta per gli adeguamenti che sono previsti per legge è data invece in forma di salario accessorio di questa elargizione a pioggia, che però non è un'elargizione a pioggia, ma è semplicemente un salario che il comune di Roma avrebbe dovuto riconoscere fin da troppo tempo. Non serve questo criterio della produttività e del lavoro accottimo sulla pelle dei cittadini romani. Quindi non un premio per i dipendenti. Serve per riconoscere i diritti ai lavoratori. Chiaro. Maritato, vi piace questa idea? Più i vigili fanno multe e più vengono premiati? Assolutamente no, perché è un vessare ancora di più i cittadini romani che sono già vessati dagli accordi che sono stati fatti dal comune con Equitalia e Equa per la discussione dei debili che ci sono con il comune di Roma. Quindi questo porterebbe ancora di più a gravare sulle tasche dei cittadini romani. Tutto questo non lo possiamo permettere. Grazie. A proposito di salario accessorio, invece cosa ne pensa Adinolfi e a proposito dell'idea dei vigili premiati per la produttività sulle multe? Io credo che premiare per la produttività non sia una cattiva idea. Dobbiamo complessivamente ricostruire una capacità della pubblica amministrazione capitolina di fare produttività con il monte di impiegati che ha, che è tantissimo. Il vero nodo problematico dal punto di vista sociale è il precariato della pubblica amministrazione. Noi abbiamo 30.000 famiglie che rischiano di andare sull'astrico tra tre mesi, perché dentro questo incredibile circo abbiamo tenuto persino altri 30.000 precari invece di rendere produttivi gli 83.000 dipendenti. Mi ha detto che se i vigili fanno più multe devono essere pregati. Se fanno più multe è bene, ma non penso che puoi legarla a quello. La produttività in generale di Stefano? Beh, è assolutamente contrario. Oggi le multe sono vessatorie, perché comunque sia il Comune non offre un servizio pubblico adeguato, per cui tutti sono obbligati a prendere la macchina, tranne chi abita nel centro di Roma, a prendere la macchina per spostarsi e spesso e volentieri lasciamo tutti la macchina in doppia fila. Tutti lo fanno e tutti sanno perché non ci sono i parcheggi, non ci sono gli autobus, è impossibile spostarsi. Quindi i vigili non possono essere vessatori. Noi i stipendi vogliamo abbassarli tutti, vogliamo che a partire dal sindaco non ci sia uno stipendio più alto di 2.500 euro all'interno del Comune di Roma, dai dirigenti ADAC a tutti i quadri del Comune. Grazie, avete fatto già un accenno tutti quanti ovviamente alla bilancia comunale di Roma disastrosa. Però vi chiedo in un minuto, riparto da Maritato, qual è la vostra ricetta diciamo per in qualche maniera gestire da una parte questo buco di bilancio e dall'altra i servizi per i cittadini? Ovviamente quali cittadini volete aiutare? Perché e come? Con quali risorse? Lei parla in particolar modo, in ogni municipio deve nascere un ufficio per la piena occupazione dei cittadini romani. Che idea è e come la vede per il futuro? Posso, ho fatto una domanda che però devo rispondere in un altro modo, questa è una domanda successiva. Assolutamente, le risorse, assolutamente noi le reperiamo come ho già detto nel provvedimento d'urgenza per recuperare le somme usurate e ancora sento dire da altri candidati cosiddetti big che vorrebbero saldare il debito pubblico chiedendo un altro prestito al tesoro. Allora ormai Roma è satura di prestiti, sta pagando interessi usurari da oltre vent'anni, abbiamo pagato 385 milioni di euro, lo ripeto ancora fino all'estremo proprio, di interessi usurari che rappresentano il debito pubblico. Il debito pubblico di Roma sono gli interessi che paga nei confronti delle banche, sono gli interessi che vengono pagati per i prodotti derivati e se lo vuole ricontrollare. Noi li recuperiamo da lì perché per effetto della legge 644 del codice penale e per effetto della legge 1815 del codice civile, noi possiamo recuperare immediatamente queste somme e mettere a disposizione dei cittadini per la ristrutturazione completa di Roma, a partire dalle periferie. Il centro occupazionale, questa è la postilla, il centro occupazionale che noi vogliamo per quanto riguarda i municipi è perché noi abbiamo visto una Roma diversa da come hanno avuto tutti i sindaci, quindi una Roma metropolitana, ciò che serve alla Cassia non è ciò che serve a Torping e a Tara. Chiaro, Adinolfi ha pensato in questo clima disastroso, con questo bilancio disastroso, come può aiutare ad esempio le famiglie romane, con quali fondi, verso quali destinarle, con quali provvedimenti? Popolo la famiglia su questo punta, con grande evidenza nel suo programma, a precise poste di bilancio. Il nostro sogno è quello di arrivare al governo della città mettendo una mamma assessore al bilancio, questo non farebbe molto peggio degli assessori al bilancio che abbiamo avuto in questi anni di destra e di sinistra. L'idea è semplicemente andare a affrontare le questioni con il buon senso della famiglia, perché se tu hai Roma Capitale ha 59.866 unità immobiliari e ne affitti 19.800 agli amici degli amici a meno di 100 euro al mese, ne affitti altri 7.000 a meno di 10 euro al mese, se hai questo tipo di redditività sui tuoi beni vuol dire che non stai facendo il bene della città. Questo una mamma qualsiasi vedrebbe questi dati e sarebbe ingrato immediatamente di far produrre non 25 milioni di euro dal patrimonio immobiliare di Roma Capitale, ma 380-400 milioni di euro da quel patrimonio immobiliare, magari scontentando partiti, associazioni collaterali e sindacati che in questo momento sono i beneficiari di quegli istituti. Chiaro, qual è l'idea di Di Stefano invece su come di fatto agire sul disastrato bilancio comunale? Voi peraltro parlate, questo nel programma nazionale di mantenimento della progressività dell'IRPF, quindi le chiedo magari invece sull'addizionale comunale se avete già delle idee. Parlate anche di spostare 35 euro dei migranti ai bambini appena nati a Roma, allora le chiedo se in testa si è fatto un calcolo anche di come di fatto finanziarlo, se quei soldi sono del Comune di Roma e li può spostare direttamente ai bambini nati in città. All'atteso che quanto dice Maritato e spesso anche Mustillo sul debito è sacrosanto ed è giusto e così va fatto, quei soldi ci sono, ci sono fiumi di denari del Comune di Roma che vanno a finire in emergenze, emergenze immigrazione, emergenze accoglienze, emergenza Roma, emergenza abitativa, tutta una serie di emergenze che poi non vengono mai risolte, stiamo parlando di milioni di euro che noi vogliamo prendere e destinare agli italiani, quindi fiumi di soldi che vanno dati soprattutto a chi nasce, chi arriva qui da Romano, i nuovi arrivati romani devono avere quei 35 ore al giorno che spesso sentiamo a disposizione degli stranieri che stanno nei centri d'accoglienza, che poi vengono mangiati non dagli stranieri ma delle cooperative, degli amici degli amici che fin qui avete conosciuto nelle inchieste precedenti a questa elezione amministrativa, quindi spostare questi soldi, destinarli tutti agli italiani per far sì che gli italiani si rimettano a fare figli che è la cosa più importante che c'è in questo momento. Di fatto Mustillo lei calcola appunto il debito pubblico a Roma in 14 miliardi, ci dice anche l'ho letto nel programma che Tronca prevede un piano di rientro di 500 milioni all'anno quindi insomma ce ne vogliono diciamo a occhio e croce una trentina, voi invece che idee avete? Noi pensiamo una cosa, che questo debito pubblico non è stato fatto nell'interesse dei cittadini romani e dai cittadini romani. È stato fatto per finanziare la speculazione che in questa città ha fatto il bello e il cattivo tempo per tanti anni. La relazione della Scorzese che è il commissario straordinario al debito pubblico, fatta alla Camera dei Deputati pochi giorni fa, ha detto che il Comune di Roma non conosce il 43% dei creditori. Come è possibile pagare un debito di cui l'amministrazione comunale non conosce chi sono il 43% delle persone titolari di un credito? Aggiungo che un'altra parte rilevante è fatta da un debito con cassa depositi e prestiti che ha un interesse altissimo, al 5% che andrebbe immediatamente rinegoziato. Una volta fatte queste mosse insieme alla revisione del patto di stabilità, Roma ha tutte le risorse per poter finanziare seriamente le politiche sociali di cui necessita in questo momento. Molto chiaro, parliamo adesso di campi rom, riparto da Adinolfi. A Roma ce ne sono 17 mila di rom in emergenza abitativa. Con Adinolfi sindaco restano nei campi così come oggi, l'emergenza abitativa viene risolta con abitazioni del comune, con soldi anche del comune incentivi da parte del Campidoglio. A 30 secondi. Non un minuto, mi scuso, con la regia, ma 30 secondi. 30 secondi è durissima, intanto perché non mi piace affrontare le cose dal punto di vista etnico. Sono i rom, sono i sinti, molti sono italiani dentro a quei 17 mila, quindi dal punto di vista etnico la questione è estremamente variegata. Il dramma è il biglietto da visita che Roma offre a un cittadino, anche straniero, che scende a stazione Termini e trova magari le macchinette automatiche presidiate da persone che vengono da quei campi, gestite dai racket. Il problema qual è? È combattere duramente il racket, combattere duramente l'abusivismo dei campi e smantellare i campi abusivi in maniera evidente. Quegli altri non possono stare in piedi, ma in 30 secondi parlare di questa emergenza è davvero dura. Mi rendo conto e mi scuso con voi. Di Stefano, su questo voi avete l'idea molto chiara, di fatto smantellarli subito tutti quanti, ma come? In quanto tempo? Affrontiamo il problema dal punto di vista della nazionalità, soprattutto rom e stranieri caricati una mattina su un bel pullman blindato e spediti fuori dall'Italia, perché se sei straniero, non hai casa, non hai lavoro, non hai motivo di stare nel nostro paese, nella nostra nazione, così come succede agli italiani in Germania senza lavoro, che vengono dopo sei mesi rispediti con il foglio di via dalla Merkel, quindi si può fare e si può fare tranquillamente. Per quelli italiani vale il principio, se hai i denari e i soldi ti trovi casa come tutti gli altri, se non li hai ti metti in lista per l'emergenza abbiativa, però stabiliamo che a Roma non si vive nelle baracche, non si vive in mezzo alla strada, altrimenti anche tu vieni preso e vieni portato fuori dal comune. Mustillo dice, a Roma c'è la possibilità di dare la casa a tutti, indipendentemente da etnia e provenienza, è così dunque anche per questi 17 mila rom? Questa è una domanda sull'emergenza casa? No, questa è una domanda sull'etnia, sui rom che vivono nei campi. Se vuoi con lei sindaco, fermate il cronometro per favore, probabilmente mi sono espresso male io, quindi mi scuso, se con lei sindaco i campi restano così come sono o se si può dare la casa a tutti e 17 mila, lei se non ho letto male dice c'è casa per tutti sostanzialmente a Roma. Allora, il Partito Comunista non difende il sistema dei campi rom che è stato finanziato in questa città da Alemanno e Maroni per tanti anni. Noi pensiamo che si debba superare questo sistema partendo appunto dal vedere quali sono i diritti di quei cittadini che stanno lì. La maggior parte di Roma è cittadino italiano, ha i diritti come tutti quanti i cittadini italiani e quindi si rientra nelle graduatorie anche avere una casa popolare. Non penso che lo smantellamento dei campi senza soluzione sia in realtà una soluzione reale per questa città. vedo bambini che adesso non stanno più, non hanno più la residenza e quindi non possono neanche accedere alla scuola. Sulle case, visto che mi ha fatto una domanda... Sulle case, vi faccio parlare dopo la pubblicità. Perfetto. E Maritato? I campi rom, io sono contro chiaramente la ghettizzazione, quindi assolutamente il campo rom devono essere chiusi ma non possiamo, per quanto mi riguarda, trattare la gente come sacchi di patate e quindi inviarla, mandarla, ghettizzarla e mettere in qualche... Chiaramente deve essere un'integrazione intelligente e dovremmo incominciare a capire come invece sfruttare i rom che potrebbero essere una risorsa lavorativa. Ancora ben trovati con quattro dei candidati per la carica di sindaco a Roma. Stavamo proseguendo, tra poco chiederò a proposito delle edilizie e delle edilizie sociali quale tipo di idee hanno. Prima però ho una curiosità, riparto da Di Stefano, se non mi sbaglio, nel giro. Qualora mai non doveste arrivare voi al ballottaggio, riparto da Di Stefano, vi do 30 secondi, avete già in testa chi appoggiare? Voi mesi fa eravate vicini, sembrava Salvini, poi invece Salvini ha scelto la Meloni, voi al ballottaggio sceglierete la Meloni, darete libertà di coscienza agli elettori? Ma noi crediamo che nessuno sia oggi la persona giusta per Roma, al di là del nostro movimento che è radicale e deciso. Se qualcuno però, arrivato al ballottaggio, chiede pubblicamente i voti di Casa Pound e dice voglio realizzare uno dei punti del programma elettorale, del movimento, lo fa pubblicamente e noi siamo pronti e disposti a pensarci e a trattare. Ovviamente questo non succederà perché quando si arriva al ballottaggio, ma anche prima tutti quando sentono nominare Casa Pound fanno, oddio Casa Pound, non posso parlarci perché altrimenti perdo il voto ai moderati. Visto che noi moderati non siamo, probabilmente non arriveremo a poggiare nessuno. Mustillo invece, Partito dei Comunisti che appoggia eventualmente Fassina o Giacchetti? Fassina al ballottaggio non ci arriverà come noi che evitiamo questa finzione di dire che arriveremo al ballottaggio. Di certo non appoggeremo Giacchetti, noi abbiamo detto fin da subito che non appoggeremo nessuno al secondo turno, ma ci tengo in particolar modo a spiegare perché non appoggiamo Giacchetti, perché con questa logica del meno peggio in questi anni, per cui bisognava votare centrosinistra se no tornava Berlusconi, alla fine è arrivato il peggio, cioè Renzi che ha fatto le politiche che anche Berlusconi non è riuscito a fare. Quindi non ci sarà nessun appoggio da parte nostra al centrosinistra al secondo turno. Maritato, Assotutela cos'è? Un'associazione che politicamente è più vicina a destra, dunque appoggerete eventualmente la Meloni o forse la Raggi? No, Assotutela non appoggia nessuno, è un'associazione apolitica, partitica, confessionale. I miei trascorsi politici chiaramente sono diversi da questa indicazione, però noi non aiuteremo nessuno perché non ci specchiamo in nessuno dei candidati che purtroppo oggi si presenta alla carica di sindaco. E invece Adinolfi che fa? Non dovesse arrivare al ballottaggio o appoggerà qualcuno in particolar modo? C'è qualcuno dei candidati che la convince? Abbiamo convocato per l'11 giugno l'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia per decidere una politica nazionale sui ballottaggi. Io arriverò per Roma con una mia proposta se non fossimo coinvolti nel ballottaggio, ma ricordo che insomma io il 30 gennaio ho parlato davanti al Circo Massimo strapieno, quindi qualche volta Roma è stata sorpresa dai risultati intorno al tema della famiglia. Ma se non dovessimo arrivare proporrò ai miei amici di andare a votare al ballottaggio e votare scheda bianca per far vedere che il Popolo della Famiglia è presente anche al secondo turno, come si conta sulle schede bianche. Allora riparto da Mustillo, prima l'avevo bloccata a proposito di edilizia popolare, se non mi sbaglio lei dice che ci sono circa 200 mila immobili tra pubblici e privati ancora vuoti o disabitati che possono essere in qualche maniera destinati all'housing sociale e come? A un minuto. Ma questo non lo dico io, ma lo dico nei dati del censimento del Comune di Roma. A Roma ci sono 194 mila immobili sfitti, ora una parte di questi ovviamente sono le seconde case dei cittadini che non saremmo certo noi comunisti andare a toccare. Una parte rilevante però sono rappresentate da case che sono nelle mani di grandi società immobiliari, di banche che fanno speculazione su quelle case. Noi pensiamo che la soluzione dell'emergenza casa in una città per l'appunto che si è estesa molto in questi anni ma che non ha aumentato il numero degli abitanti, sia andare a pesare su chi fino ad oggi ha speculato sulla questione abitativa e quindi requisire quelle case, quegli immobili sfitti di proprietà delle grandi. L'articolo 43 della Costituzione lo prevede e destinarle a chi oggi è in graduatoria, parlo di 30 mila persone a Roma e è in emergenza abitativa. Ecco, chi fino ad oggi ha speculato e sono i grandi costruttori romani è ora che inizino a pagare qualcosa. Grazie. Maritato, lei dice evitare la cementificazione selvaggia ma pensa alla possibilità di costruire ancora nuove case a Roma o bisogna recuperare il patrimonio esistente? Bisogna recuperare il patrimonio esistente, naturalmente tramite una graduatoria non vogliamo più le occupazioni, non vogliamo più l'emergenza abitativa e soprattutto non vogliamo più potere i cittadini disabili che non possono accedere alle graduatorie delle case popolari in maniera privilegiata. Abbiamo esempi molto eclatanti, il caso di Chiara Insidioso, il caso di Luciana Pennarossa, una ragazza disabita alta 2,40 metri in emergenza abitativa e adesso verrà sfrattata con la forza pubblica e non ha la possibilità di entrare in una casa pubblica se non in un'altra emergenza abitativa fuori Roma. Tutto questo è inaccettabile e quindi noi requisiremo il patrimonio immobiliare sfitto al Comune di Roma oppure fitto ai sindacati partiti e quant'altro e lo daremo a una lista privilegiata per la disabilità. Chiaro, a Dinolfi indurre i proprietari di immobili a non tenere inoperosi i beni posseduti e destinarli evidentemente all'housing sociale, come li induce? Li si induce attraverso attività coatta prevista anche dalle leggi e nonché dalla Costituzione ma passando prima di tutto dai beni di Roma Capitale, perché Roma Capitale non può avere questi 59.866 unità immobiliari e pensare, io ho fatto il parlamentare del Partito Democratico per un segmento della mia vita, andavo a fare la tessera a Via dei Giubbonari, alla sezione di Via dei Giubbonari, ma è possibile che da 40 anni la sezione di Via dei Giubbonari rifiuti di pagare un qualsiasi canone e rifiuti e ribandi indietro anche gli avvisi di sfratto e di evidentemente sgombero necessario di quel locale che, ricordiamolo, per chi non è romano è a 10 metri da Campo dei Fiori, cioè dal cuore della Roma più bella. Quindi destinerebbe Via dei Giubbonari ad una famiglia? A tre famiglie, perché chi conosce la sezione di Via dei Giubbonari sa che lì ci vanno tre famiglie. Con quei 59.866 unità immobiliari, alcune che stanno proprio a Campo dei Fiori, affittate a 10 euro al mese si possono dare posti per 250.000 romani e sono molti di più di quelli che sono in emergenza abitativa. Di Stefano Casapound parla di costruzione diretta da parte dello Stato su terreni pubblici, quindi è proprio lo Stato che edifica evidentemente con edilizia pubblica stile ventennio. Su questo già pensate quindi a degli architetti in particolar modo? No, pensiamo a un modello che è quello della Garbatella, che tutti quanti conoscono come uno dei migliori quartieri di Roma. Ci sono le aree per costruire questi nuovi quartieri e li vogliamo costruire con la forma del mutuo sociale. ovvero case costruite a prezzo di costo direttamente dall'amministrazione comunale su terreni pubblici o su terreni espropriati e queste case a prezzo di costo vengono per un appartamento di 100 metri quadrati, parliamo di 80.000-100.000 euro al massimo. Una formula che è quella del mutuo sociale che prevede che la famiglia con un quinto delle entrate riscatti questa casa fino a diventarne proprietaria, perché noi vogliamo tramutare i cittadini in proprietari di casa, non tenerli nei casermoni grigi stile corviale tutta la vita a pagare magari 50 euro al mese. Dobbiamo fare un salto e far sì che la gente diventi proprietaria con dei nuovi quartieri sul modello della Garbatella. Si può fare, ci sono soldi e oggi spieghiamo milioni di euro per regalarli ai costruttori. Parliamo comunque di terreni in periferia ovviamente non si può costruire. Certo, e faccio un esempio rapido, i terreni di Parnassi su cui deve sorgere l'Ossio della Roma. L'Ossio della Roma deve stare più al centro, deve stare sopra l'ex cinodromo che è di proprietà del Comune di Roma, su Viale Marconi servito dalla metro B. Invece lì sta a Tordivalle servito dal trenino Romalito dove vorrebbero mettere 40.000 tifosi il sabato per andare allo stadio. Chiaro, adesso vi chiedo però, lo facciamo sempre ai nostri confronti, se non mi sbaglio devo ripartire da Maritato, la vostra dichiarazione dei redditi, ossia quanto guadagnate ogni mese, ossia ovviamente il dato per quanto riguarda l'annuale, che proprietà ha di auto e di case e anche come si finanzia questa campagna elettorale? Allora, io sono un libro professionista, chiaramente... E' un tributarista? Io sono un tributarista. Insomma, ci dica la verità almeno lei. Io ho una dichiarazione dei redditi molto nella norma, intorno ai 35.000 euro l'anno e non ho proprietà e ho una semplice utilitaria come automobile, quindi... Bene, come si è finanziata la campagna elettorale? Assolutamente da solo. Quanto avete speso? Non abbiamo speso soldi, abbiamo speso in tutto 1.000 euro per stampare alcune locandine, qualche rinfresco. Adinolfi, proprietà, ovviamente dichiarazione dei redditi e anche come si è finanziata la campagna elettorale? Avevo due automobili di proprietà e non le ho più, queste le abbiamo notte male, la mia dichiarazione dei redditi è di 41.000 euro, il finanziamento della campagna elettorale è stata una sottoscrizione di tutti gli aderenti al popolo e alla famiglia, abbiamo speso circa 5.000 euro sul piano comunale, ma abbiamo destinato poi 2.000 euro a ogni realtà municipale, noi siamo proprietari in tutti e 14 i municipi, quindi complessivamente... È proprietario di casa? Non sono proprietario di abitazione, 33.000 euro sono complessivamente le spese che abbiamo assunto su Roma, complessivamente di 2.000 per ogni singola lista municipale. Stessa domanda di Stefano. Io sono un libero professionista, meno di 20.000 euro l'anno, con partita IVA, non sono proprietario di nulla, ho una piccola utilitaria e la nostra campagna elettorale è completamente autofinanziata dal movimento, che ovviamente non ha fondi pubblici, ma i ragazzi che militano, che si diano fuori i soldi di tasca propria per pagare manifesti e tutto quello che vede in giro per Roma, non abbiamo speso penso più di 10.000 euro. Grazie, chiedo anche al Partito Comunista, in particolar modo a Mustillo, che tipo di dichiarazione di redditi ha, che proprietà ha, e invece ovviamente la stessa cosa sulla campagna elettorale. Sono studente, laureando in giurisprudenza, non ho guadagni, non ho proprietà intestate a me, e per quanto riguarda la campagna elettorale, noi la stiamo finanziando senza fondi pubblici, chiaramente, perché il nostro partito non ne prende, ma grazie alle sottoscrizioni di tanti militanti e soprattutto grazie al lavoro militante che i nostri compagni svolgono per far andare avanti questa campagna elettorale. Vecchio stile, come facevano i comunisti una volta, senza agenzie pubblicitarie, alle spalle, ma facendo tutto quanto noi. Si è speso in tutto? A 5.000 euro circa. Grazie, allora, riparto da Dinolfi per chiedere qual è la sua ricetta per rendere la città più sicura. Anche in questo caso vi faccio, provo, lo so che è sempre difficile, la stessa impostazione che vi ho fatto sul traffico. Chiedervi in un minuto se da sindaco prenderete subito un tipo di decisione in particolar modo, che possa riguardare un quartiere, una zona o l'attività magari della Polizia Municipale, che ovviamente ha le dipendenze del Comune. Sì, nella prima riunione giunta, quella in cui valeremo l'assegno di natalità, l'assegno matrimoniale e l'abbattimento dell'aliquota IRPEF addizionale per la famiglia numerosa, uscirò con la fascia tricolore e andrò nelle piazze di spaccio di questa città, note, arci note. Purtroppo in questa città ogni weekend un esercito di 200.000 persone consuma cocaina, eroina, ex, CMDMA, droghe chimiche di ogni genere, cannabis e questo mescolato a un consumo forte di alcol genera una tragedia costante in questa città. Deveva affrontare solo lei con la fascia tricolore d'assistico? Io ho detto che andare in piazze di spaccio arci note di questa città, dove si spaccia a cielo aperto e tutti lo sanno, senza che si intervenga mai, che il sindaco sia presente davanti alle famiglie che costantemente dicono è intollerabile quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi e si vada a dire con il comandante della polizia di Roma Capitale e segnalando alle forze dell'ordine con chiarezza una denuncia fatta in termini anche politici possa portare a divellere quelle piazze di spaccio arci note di questa città. Di Stefano Sindaco, qual è la prima misura per rendere la città più sicura? Noi vogliamo responsabilizzare i cittadini e dargli un ruolo magari anche istituzionale quando questi cittadini si associano in gruppi che presidiano il territorio del loro quartiere. Parliamo di ronde? Parliamo di ronde, parliamo di persone che girano per il quartiere, che magari sono riconosciute dal comune, che hanno un fradino, che hanno delle lampade, che possono andare a segnalare direttamente al sindaco quali sono le zone di spaccio, dove c'è la microcriminalità, dove c'è un problema e soprattutto farsi vedere perché spesso e volentieri, come si diceva anche prima, farsi vedere è il primo deterrente affinché poi non vengano commessi atti delinquenziali. Hanno potere solo di segnalazione? Hanno potere di segnalazione, hanno potere di intervenire anche magari con decisione a fermare gli spacciatori ma il discorso è che dobbiamo appunto accendere dei fari per dire anche la tassa sull'illuminazione perché qui a Roma facciamo pagare ai negozianti anche una tassa quando accendono la luce e illumina la strada. Quella è una delle prime cose che va tolte. Tutti quanti i negozianti anzi dovrebbero essere ringraziati quando tengono accese le luci e illuminano la città. Quindi questa è la prima norma da sindaco per rendere la città più sicura, creare appunto questo gruppo di cittadini. Invece il Partito dei Comunisti pensa che Roma sia una città non troppo sicura per cui dunque servono delle misure più severe? Ma credo che non servano sindaci sceriffo e che le questioni non si risolvano semplicemente con misure di carattere emergenziale o con l'esercito nelle strade e cose di questo tipo. Noi comunisti ci concentreremmo su rimuovere le cause sociali che rendono oggi Roma una città più insicura. Quando si parla di spaccio, noi comunisti abbiamo una posizione che è contraria alla droga, ci interroggiamo sul perché oggi tanti giovani, non avendo nessuna alternativa, finiscono preda della droga. Quindi noi pensiamo che investimenti sociali sui territori, in particolar modo nelle periferie di questa città, che sono state abbandonate per troppi anni, possano rimuovere quelle cause che portano Roma a essere una città oggettivamente insicura. Quindi ripartire dalle cause e non andare direttamente alla città? Sì, se no si nasconde la polvere sotto il tappeto. Chiaro. Maritato, qual è la sua ricetta da sindaco per rendere la città più sicura? Sicuramente in collaborazione con il Ministero dare più potere ai vigili urbani, quindi i vigili urbani dovranno avere lo stesso potere della Polizia di Stato e farsi aiutare assolutamente nella presenza anche nelle periferie dell'esercito. Sono pronti i vigili urbani a questo compito? I vigili urbani sono pronti, secondo me sono stati sempre boicottati probabilmente dallo stesso sindaco di Roma in carica in quel momento e dallo stesso Ministero perché potrebbero essere invece una fonte di controllo in più, coadiuvati dall'esercito. Certo, chiaramente agire nel potere invece dare lavoro ai giovani che purtroppo troppo spesso essendo disoccupati cadono nella droga, non avendo attrattive cadono in tutto quello che purtroppo è la trinquenza comune, questo fa parte di un intervento iniziale che deve essere d'aiuto a quello dei poteri straordinari ai vigili urbani e dare un potere in più anche alle guardie giurate presenti per esempio in aiuto negli ospedali, nelle poste, nelle banche. La ringrazio, riparto da Di Stefano, Roma può accogliere nuovi migranti? Ovviamente la cronaca ci sta raccontando di nuovi naufragi, peraltro un ultimo c'è stato in questo momento si parla di almeno di una ottantina di dispersi. Roma si può far carico ancora, vedo 30 secondi, mi rendo conto ancora una volta del tempo molto breve, di nuovi migranti o no? Le faccio un esempio, non voglio essere un demagogo ovviamente, ma ad esempio può accogliere almeno anche la bambina di nove mesi che come sa è stata salvata in mare e ha perso la mamma proprio nell'ultimo naufragio di ieri. Certo, la bambina di nove mesi o i bambini che nascono nelle pozzanghere in Macedonia o quelli che muoiono sulle spiagge della Turchia, non sono ospitati nei centri d'accoglienza perché noi ci permettiamo il lusso nel centro d'accoglienza di ospitare ragazzone senegalese o del Mali o del Bangladesh che alla buona la sera va alla stazione Termini a spacciare. Per far cosa? Per far ingrassare le solite cooperative. No, Roma non può più accogliere migranti economici, immigrati economici, non può più accogliere chi viene qui a cercare una fortuna che non c'è per noi e non può esserci per loro. Possiamo accogliere donne e bambini che scappano dalla guerra, però dobbiamo far sì che queste persone non arrivino più a Roma. Grazie, qual è l'idea del Partito Comunista? Roma può accogliere nuovi migranti? La questione non è se può o non può, il punto è che c'è una condizione generale che spinge migliaia di persone a migrare dalla propria terra. Fino a quando questo sistema condannerà interi paesi a essere soggetti al dominio delle grandi multinazionali e anche alla guerra, questo sarà il risultato. Mi permetta, non penso che lei da sindaco può risolvere questo problema. Se c'è una perdita in una tubatura, noi possiamo metterci tutti i giornali che vogliamo per terra, ma l'acqua continuerà a cadere. Quindi c'è un problema complessivo di cui come politica dobbiamo farci carico. Su Roma il Comune deve gestire le politiche e l'accoglienza direttamente. Oggi era una manifestazione ai lavoratori, no a cooperative, no a chi fa su questo speculazione. Qual è l'idea di Maritato? Roma ha comunque la possibilità di accogliere altri? Perché i flussi comunque al di là di tutto aumentano? Dal punto di vista umano Roma non è che ha la possibilità di accogliere. Roma deve accogliere chi ha la necessità di essere curato, chi ha la necessità di essere accolto, chi ha la necessità di avere un'assistenza. I romani? Di Stefano, per favore. Non ho capito? No, no, prego, prego. Chiaramente tutto questo deve essere fatto in base a una cernina di persone. Chiaramente non possiamo accogliere chi poi va a spacciare. E chiaramente va distrutto il sistema cliente reale delle cooperative che invece si sono messe a servizio della politica per far business sui rom e quant'altro. Non c'è la possibilità di accogliere ancora. Adinorfi. Il problema è che Roma, l'Italia, deve accogliere chi fugge dalla guerra. Questo è scritto nelle tavole del diritto internazionale. Questo è l'accordo anche a livello europeo. Bisogna saper mettere insieme le esigenze di tutto un paese. Roma deve farsi sentire perché non può pagare in maniera eccessiva un prezzo rispetto ad altre città d'Italia. Detto questo, Papa Francesco ha invitato le parrocchie ad aprire le loro porte per accogliere. Papa Francesco sa che a Roma ci sono 330 parrocchie. C'è una capacità anche da questo punto di vista di mettere insieme risorse pubbliche e risorse private per far sì che chi fugge dalla guerra rischia di morire non debba essere messo in condizione di tornare in un luogo dove morirà. Riparto da Mustillo, ha citato Papa Francesco. Bisogna aumentare la tassazione per gli immobili della Chiesa in città? Vi do ancora 30 secondi. Bisogna assolutamente fare in modo che quegli immobili della Chiesa che in realtà hanno finalità economiche, penso a alberghi, penso a strutture sportive mascherate da luoghi di culto ecclesiastico, in realtà paghino le tasse così come tutti gli altri. Altrimenti si genera una concorrenza ribasso che non è giustificata. Non basta avere una croce al muro o una madonnina per essere un agriculto. Se hai un albergo o se hai una palestra devi pagare le tasse. Questo ha un calcolo di che tipo di evasione ci può essere? Sono diversi, sono stati calcolati diversi milioni di euro. Parliamo di almeno 20-30 milioni di euro all'anno. Maritata ha lo stesso calcolo e pensa che effettivamente Roma debba far pagare più tasse a questo tipo di immobili? Ma assolutamente sì, perché comunque la Chiesa è un'istituzione che produce economicità e ne produce anche parecchia e quindi assolutamente le case vacanze devono essere tassate identicamente a come sono tassati gli albergatori, come sono tassate le pensioni e devono pagare assolutamente le tasse comunali sugli immobili e non devono avere nessun tipo di esenzione. Grazie. Adinolfi, c'è una parte di istituzioni ecclesiastiche che evadono secondo lei le tasse a Roma e dunque ne devono pagare di più? Non ho difficoltà a dire che si possono sicuramente mettere tasse sugli elementi economici gestiti da enti ecclesiastici. Ma ricordiamo che Roma è attraversata da una tale quantità enorme di bellezza che qualche volta un pizzico di gratitudine verso questa tanto negletta Chiesa Cattolica andrebbe versata. La ragione forse del patrimonio più bello che c'è al mondo è la Chiesa Cattolica presente a Roma dove in ogni angolo se entriamo, magari entriamo a San Luigi dei Francesi, troviamo tre Caravaggio appesi al muro che rappresentano e fossero valorizzati sarebbero ricchezza altro che le case vacanze. Passando da questo non sarebbe male dire anche grazie a quello che la Chiesa fa per gli ultimi e per la bellezza di questa vita. Grazie, ma la possibilità comunque di in qualche maniera rientervenire sulla tassazione. Di Stefano? Sì, bisogna assolutamente far pagare la Chiesa le tasse che deve pagare, soprattutto là ci sono tanti locali commerciali, per esempio all'Escurino dove siamo noi a Stazione Termini affittati ai cinesi di proprietà appunto del Vaticano che non so se pagano o non pagano perché poi dentro magari appunto c'è un simbolo religioso. Rientrare di quei soldi sono milioni di euro per metterli a disposizione della città. Sicuramente Roma è visitata per le bellezze della Chiesa, però diciamo quello è genio italiano che si viene a vedere. Grazie sì alla Chiesa, ma siamo a Roma da 1700 anni prima che venisse la religione cristiana. Grazie ovviamente a tutti per aver risposto a tutte le domande, ne avrei volute farne di più. Allora c'è tempo soltanto per il vostro appello finale, avete un minuto, devo ripartire da Maritato. Magari vi chiedo una cosa che non ho curiosità in più, che non sono riuscito a chiedervi nell'appello finale che lei farà alla telecamera, ai suoi lettori. Se è vero che lei vuole dare lo stadio gratis a tutti i tifosi, se è vero come? Ma lo stadio gratis a tutti i tifosi si può dare perché le società di calcio che ricevono gli sponsor milionari possono farsi carico assolutamente di uno stadio sicuro, di uno spettacolo, perché il bene purtroppo del calcio non sono in questo momento i tifosi che pagano il biglietto, ma sono le società multinazionali che sponsorizzano. Quindi siccome i tifosi a Roma sono molto presenti, insomma c'è una massiccia presenza, devono essere premiati anche perché sono talmente tassati, talmente distrutti che vedo veramente un momento risbago nella domenica per ricostruire quella famiglia che da molto tempo, da troppo tempo, manca nello stadio. Grazie, l'appello finale di Adinolfi ha un minuto, anche lui aveva promesso di dimagrire 40 kg in due mesi, vero se non mi sbaglio? Sì, adesso vediamo insomma, c'è ancora qualche giorno, poi dopo si va sulla bilancia, ma il dato fondamentale è votare il popolo della famiglia per la capacità che credo abbiamo dimostrato di rappresentare i bisogni di una politica completamente diversa che parta dalle necessità delle mamme e dei papà di questa città che fanno una fatica enorme a portare fino in fondo il loro lavoro, a portare fino in fondo tutti i bisogni familiari, ripartire dagli incentivi alla natalità, ripartire dall'assegno matrimoniale, dalle giovani coppie che devono dare questo gesto di responsabilità per costruire ricchezza attraverso la famiglia stessa e poi bloccare le politiche antifamiliste, no alle unioni omosessuali equiparate alla famiglia perché evidentemente introducono un meccanismo di diritti di filiazione che passano attraverso la mercificazione dell'essere umano, la mercificazione del corpo femminile, il figlio diventa un oggetto di una compravendita, la maternità diventa oggetto di una transazione finanziaria, Roma deve essere modello di qualcosa che è altro rispetto a questo. Il popolo e la famiglia governerà senza finanziare i gay pride e senza celebrare i matrimoni gay in questa città. Si farà arrestare per non celebrare i matrimoni gay. Siamo pronti a fare obiezioni di coscienza. Grazie Di Stefano, l'appello finale di Casa Pound non è la prima volta che vi presentate, di solito, se non mi sbaglio, su Roma, sempre con degli zero virgola, abbiamo visto un altro risultato a Bolzano, ben più alto, sul 6-7%, anche che aspettative avete? Il suo appello finale. Sì, in tre anni sono cambiate tante cose, il movimento, ripeto, è cresciuto, a Bolzano si è affermato nei quartieri italiani addirittura con un 10,5%, per cui il movimento cresce. Voi sapete che Casa Pound è a fianco dei cittadini italiani, è per strada, è vicino alle vostre istanze anche fino alle estreme conseguenze. Quindi il voto utile che voi potete esprimere è quello che manda i ragazzi di Casa Pound, quei pazzi criminali, come li chiamano loro, all'interno dell'aula Giulio Cesare a far prendere un bello spavento ai partiti che fin qui hanno amministrato Roma e che oggi si ricandino. Giorgia Meloni equivale a dire Gianni Alemanno perché hanno amministrato insieme, Giacchetti è Marino e Virginia Raggi, la ragazzina dei 5 Stelle che vuole cambiare Roma con la bacchetta magica e per favore non farà nulla e verrà spolpata come un osso di prosciutto in una vasca di piragna perché questo oggi è Roma. Serve determinazione, se vogliamo cambiare la città la dobbiamo cambiare a calce, non con i per favore, non con le carte bollate, non con i telefonini che fotografano i senatori che mangiano la buvette, i tramezzini perché questo hanno fatto i 5 Stelle fino ad oggi. Esprimete un voto di rabbia e l'unico voto di rabbia che potete esprimere per spaventare è quello a Casa Pound. A calci sempre metaforici ovviamente. Ovviamente metaforici. Grazie Mustillo. Il suo appello finale se non mi sbaglio è c'ho questa curiosità. Lei è rimasta impressionata da un viaggio in Corea del Nord. Non le dico che si immagina Roma come Pyongyang, ma da che cosa è rimasto impressionata? Sono da un Corea del Nord come vado nella maggior parte dei paesi comunisti per apprendere esperienze e per scambi di carattere politico. Il voto al Partito Comunista è l'unico voto utile per i lavoratori, per gli studenti, per i disoccupati e pensionati di questa città. È un voto per mandare a casa chi ha gestito Roma con il sistema di mafia capitale e con un sistema che ha favorito solo la speculazione dei grandi costruttori e dei grandi gruppi economici. È un voto contro quella sinistra che ha tradito in questi anni e che oggi rappresenta la parte politica più funzionale agli interessi delle banche e delle grandi imprese. Votando il Partito Comunista si consente a una forza politica pulita che rappresenta gli interessi delle classi popolari di poter entrare in Consiglio Comunale e nei municipi a rappresentare quei diritti che tutti voi chiedete e che vivete quotidianamente sulla vostra pelle. In alto a sinistra, come una volta, una croce sul Partito Comunista per consentirci di iniziare un percorso che andrà oltre queste elezioni. Grazie, grazie Mustillo, grazie Maritato, grazie Adinolfi, grazie Di Stefano. Ricordo, ci rivediamo con i confronti, se volete ovviamente. Lunedì saremo di nuovo a Milano, martedì ancora per Roma e poi via via ovviamente vi accompagneremo anche nella vostra scelta per le elezioni anche con gli eventuali ballottaggi nelle principali città.